Oggi ragazzi, sabato il 30 il video di 22, che ci scade i funghi, qui già c'è una cosa che scadevole, però c'è un po' di olio, manito No, d'arru, d'arru no è ci bulla 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 è ci bulla no è ci bulla no è ci bulla no è ci bulla 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 è 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 bulla mi ricordi è bulla 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 è bulla